Ecco, la comunione nelle mani è un sacrilegio, la comunione nella plastica messa sulla plastica è un secondo sacrilegio, che la plastica dove è stato deposto il corpo di Cristo venga poi buttata nell'immondizia, perché parliamo di guanti monouso, è un terzo sacrilegio. Quindi le modalità con cui il governo ha deciso che si debba dare la comunione sono tre sacrilegi in uno. Il sacrilegio è il peccato più grave che l'uomo possa commettere, perché è un peccato che va contro Dio. Come dicevo qualche domenica fa nell'Omelia, è un atto di macelleria eucaristica. Padre Pio diceva ma ce l'hai a tutti coloro che trattavano l'eucaristia senza rispetto. E quindi in questa parrocchia i fedeli faranno la comunione spirituale, tanto passerà questo periodo, non può durare sempre. Nel frattempo faranno la comunione spirituale perché io nella mia coscienza non mi sento assolutamente di commettere questo triplice sacrilegio. Grazie. 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 Grazie.